Allo scopo di prevenire l'involontario abbandono in auto di bambini molto piccoli da parte del padre o della madre, le ultime tre tragedie di questo tipo si sono verificate proprio in Toscana, l'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco ha presentato una nuova procedura sperimentale, la prima in Italia, che prevede di rilevare quotidianamente le presenze dei piccoli negli asili nido, mettendosi subito in contatto con le famiglie di quelli che risultano assenti, a meno che i genitori non abbiano dato un preavviso il giorno prima. Naturalmente questo è un provvedimento che ci è stato sollecitato dai tragici fatti di cronaca delle morti in auto per l'abbandono e va in parallelo con il percorso nazionale per rendere obbligatorio il seggiolino, quindi il segnale acustico luminoso del seggiolino in auto, ma credo che sia anche molto importante perché appunto è un elemento in più di comunicazione scuola-famiglia. Alla presentazione del nuovo regolamento in vigore dal prossimo gennaio hanno preso parte anche il babbo e la mamma di due piccole vittime, Gaia, morta a Vada due anni fa, e Giorgia, morta l'anno scorso a San Piero a Grado. I comuni saranno liberi di scegliere gli strumenti anche informatici per mettere in pratica il nuovo servizio. La regione sosterrà i comuni anche in questo, cioè nell'atto di dotarsi di strumenti e apparecchiature idonee per adempiere a questo servizio ulteriore.